Musica Eseguita l'autopsia sul corpo di Pierpaolo Panzieri, il giovane è stato ucciso con 15 coltellate alla gola e alla schiena trovate anche due costole rotte Vento forte con raffiche di burrasca nelle marche, emessa un'allerta meteo per la giornata di domani Altro riconoscimento per l'azienda territoriale sanitaria di Pesaro e Urbino all'ospedale Santa Croce in arrivo professionisti da tutta Italia per un corso di alta formazione in chirurgia ambulatoriale e dei surgery A Fano proseguono i lavori di asfaltatura in diverse vie della città alla Trave e a Centinarola aperti i cantieri per due nuovi sgambatori 100 studenti in giuria per letteraria Riparte il concorso che vede in gara 122 romanzi La novità è il podcast con il debutto su tutti i social media Ben trovati di nuovo insieme cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale di occhio alla notizia Se lo avete sentito dai titoli, l'autopsia eseguita ieri sul corpo del 27enne Pierpaolo Panzieri trovato morto nella sua abitazione a Pesaro ha confermato 15 lesioni da arma da taglio Il riconfesso Michael Alessandrini si trova ancora in stato di fermo in Romania Sentiamo Emergono novità importanti in merito alla morte di Pierpaolo Panzieri Il 27enne trovato senza vita lo scorso lunedì 20 febbraio nella sua casa in Via Gavelli a Pesaro L'autopsia eseguita ieri dal dottor Angelo Montana dell'Istituto di Medicina Legale di Ancona racconta di un omicidio davvero feroce L'esame, durato quasi 7 ore, ha evidenziato ben 5 coltellati alla gola e 10 alla schiena Fendenti ben assestati che avrebbero provocato anche la rottura di costole Confermata la presenza dei tagli sulle mani Segno che Pierpaolo ha lottato per difendersi dall'attacco dell'amico I due, come già successo altre volte, avevano cenato insieme Lo confermano i resti di cibo che Pierpaolo aveva in corpo Il movente è ormai chiaro Al centro della furia omicida ci sarebbe la gelosia Michael Alessandrini avrebbe intercettato alcuni messaggi scambiati tra una donna di cui si era invadito e il suo amico L'idea di una presunta relazione tra i due avrebbe scatenato l'ira del trentenne sfociata poi nell'omicidio Alessandrini è attualmente in stato di fermo in Romania Si è opposto all'estradizione che comunque avverrà a metà aprile E il servizio è stato curato da Marco Lonigro I concessionari di spiaggia pesaresi aderenti alla CNA Esprimono il loro cordoglio per la scomparsa del collega Enzo Monachesi Imprenditore del settore e rappresentante della categoria di Senigallia Uno dei primi a battersi per la direttiva Bolkestein E da sempre impegnato per la difesa della categoria Ad esprimere cordoglio è anche il consigliere regionale ed ex sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi Lascia un vuoto incolmabile Ha detto Mangialardi Per me Enzo è stato prima di tutto un amico E a lui mi legano tanti bei ricordi Che vanno ben oltre l'attività politica e amministrativa Che abbiamo condiviso per lunghi anni Un uomo sensibile, generoso, coraggioso Lo dimostra in modo in cui ha affrontato la malattia Enzo ha lottato come un leone Per rimanere attaccato a quella vita che amava tanto La protezione civile regionale ha diremato un'allerta meteo Per vento forte, valevole per gran parte del territorio marchigiano Dalla mezzanotte di oggi alle ore 12 di domani, giovedì 9 marzo I venti saranno sud-occidentali Con raffiche che raggiungeranno intensità di burrasca forte In particolare nelle zone interne In parziale debolimento nel corso del pomeriggio L'ospedale Santa Croce di Fano Il suo reparto polifunzionale di day surgery e chirurgia ambulatoriale Saranno la sede di un corso di alta formazione Dedicato a chirurghi A specializzanti al quarto e quinto anno A specialisti di anestesia e rianimazione E ad infermieri che la scorsa settimana hanno terminato la prima fase del corso organizzato Dalla scuola nazionale ospedaliera di chirurgia Tra i docenti anche Alberto Patriti Direttore di chirurgia generale degli ospedali di Pesaro e Fano I partecipanti, provenienti da tutta Italia Nei prossimi mesi frequenteranno il Santa Croce per acquisire informazioni sul nostro modello organizzativo Ha spiegato Patriti con approfondimenti sulla gestione del rischio E sull'uso delle più moderne innovazioni tecnologiche e sistemi informatici Per poi replicarlo nelle loro realtà ospedaliere E ora cambiamo argomento Perché a Fano sono partiti i lavori per la realizzazione di due nuovi sgambatoi Uno alla trave e l'altro a Centinarola Fano oltre ad essere amica dei bambini e delle persone è anche amica degli animali E lo dimostra l'impegno che ci siamo presi nella realizzazione di due nuovi sgambatoi Che si vanno ad aggiungere ai quattro già realizzati Partendo da Bellocchi, Fano 2, San Lazzaro e Santorso E quest'anno, proprio in questi giorni, stanno picchettando e iniziando i lavori Sia presso l'area qui alla trave di fronte al circolo tennis Che alla Centinarola dietro il campo sportivo In via Monfalcone Allora, sono rispettivamente due sgambatoi importanti come dimensioni Parliamo di una dimensione di circa 40 metri per 30 Naturalmente, mentre qui siamo in una pianura Siamo riusciti a rispettare una dimensione più uniforme A Centinarola invece ci addentriamo in un bosco E proprio per rispettare quello che è un percorso naturale Abbiamo un attimino rimodulato quello che sarà l'ambiente Ricordiamo che sono sgambatoi che sono attrezzati di una recinzione Ci sarà la fontanella, ci saranno delle panchine E così anche dei cestini porta a rifiuti Proprio per conferire quello che è il rifiuto dei propri cani Che naturalmente vanno a sensibilizzare nuovamente Quello che è anche lo spirito civico con cui ci si appresta In questi luoghi di pausa urbana, luoghi bellissimi Dove le persone riescono veramente, oltre che a portare i propri amici a quattro zampe Proprio a socializzare, a creare una radice sociale Che è quella che vogliamo diffondere sempre più nella città Proprio perché questi luoghi sono luoghi di socialità Sia alla Trave che a Centinarola Abbiamo previsto anche delle panchine fuori lo sgambatoio Proprio per favorire un'area di ristoro E in questo caso ci troviamo qui alla Trave Dove grazie a quello che è l'intervento della ciclabile dell'Arzilla E alle opere compensative Quindi proprio per mitigare ancor più l'effetto del verde Stiamo mettendo di mora proprio in queste ore 21 nuove piante Sono tre specie arboree, molto colorate, variegate tra loro Ma che mitigherà sicuramente, daranno un maggior decoro Ma soprattutto daranno qualità anche all'abitare In tutti i sensi, dalla qualità dell'area che respiriamo E in questo caso andranno anche a mitigare lo spazio Sia della ciclabile rispetto a quello che è l'area dietro Naturalmente noi arriviamo a destinazione di una richiesta numerosa E attempata di tanti cittadini che fortemente volevano questi spazi Adibiti agli amici Quattro Zampe E sono spazi che non termineranno qui Perché l'impegno dell'amministrazione come abbiamo dimostrato in questi anni È quello di dare continuazione e quindi di diffondere sempre più questo luogo In altre parti della città E l'assessore Brunori ha dato anche aggiornamenti sulle asfaltature Dopo quelle di via della Brace in viale Cairoli Da domani e venerdì i lavori proseguiranno in via Fanella Nel tratto di via Davide Squarcia in via Martiri di Belfiore Per consentire l'intervento il tratto interessato rimane chiuso al traffico Ma resta garantito il passaggio degli autobus e dei residenti Successivamente si procederà in via Cacciafame Via Inaudi nel parcheggio del Brico Via Meda, Via Vampa e Via Roma Da aprile si aggiungeranno le asfaltature nelle vie che vedete elencate in questa grafica Tra queste rientrano via Gentile da Fabriano Via della Marina, Viale Dante Alighieri, Viale Adriatico E la frazione di Sant'Andrea in Villis E anche questa sera diamo spazio alle vostre segnalazioni E partiamo dalle immagini di un nostro reporter di strada Che ci ha scritto Non so se le foto rendono Ma alla fine del nuovo ponte costruito sull'Arzilla Dalla parte del baretto Le mareggiate hanno portato via la terra E sotto il nuovo marciapiede c'è il vuoto Non è pericoloso? Chiede il telespettatore E invece ieri c'è arrivata un'altra fotografia Scattata in Via Roma Con la quale una telespettatrice preoccupata Ha voluto mostrare le condizioni In cui i ragazzi attendono l'autobus Nella zona dell'ex seminario E sono stati presentati da Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro e Urbino Quattro appuntamenti legati alla sostenibilità Dedicati alle imprese del territorio Allora sentiamo i particolari E le date nel prossimo servizio La sostenibilità in tutte le sue declinazioni Sociale, ambientale, economica, culturale Sarà al centro del progetto obiettivo Sostenibilità Quattro appuntamenti organizzati da Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro e Urbino Gli eventi che vedono la collaborazione Dell'Università Politecnica delle Marche Istituzioni e amministrazioni del territorio Vogliono offrire un'occasione di riflessione Sulla tematica della sostenibilità Alla quale le imprese devono porre attenzione Anche in considerazione del valore sociale ed economico Che riveste A confrontarsi esperti, imprenditori Ospiti di livello nazionale Che saranno chiamati ad analizzare dati Delineare i progetti Presentare le migliori pratiche Che possano aprire un percorso Che dalle parole porti ai fatti Una sostenibilità a 360 gradi Sono appunto punti di vista che devono servire Per ragionare, per confrontarsi Per aprire delle riflessioni Appunto non vogliamo solo parlare di prodotti Vogliamo anche sensibilizzare a tutto il tema Del recupero, del riuso, del riciclo Che secondo noi è fondamentale E soprattutto capire anche Proprio all'interno del nostro mondo Se le nostre imprese possono essere ancora competitive Con le regole appunto che stanno cambiando In una competizione globale Su un tema come quello della sostenibilità Che sembra di particolare interesse Ma comunque con tante difficoltà Quindi vogliamo informare le nostre imprese Sulle opportunità Ma vogliamo far sì anche di sensibilizzare Come dire una platea molto più ampia Su quello che è un tema Dove noi diciamo Il nostro mondo è già molto molto preparato E molto diciamo attento Il primo appuntamento si è svolto a Iesi Per proseguire il 19 marzo Al Teatro delle Musee ad Ancona Con il convegno Realizzare la sostenibilità Le nostre imprese si raccontano Il terzo, il 30 marzo Si terrà a Fano E si parlerà delle comunità energetiche Per un mondo che cambia Dove ci saranno le opportunità Per le imprese E le progettualità che ruotano Intorno alle comunità energetiche Ultimo evento Al centro direzione di Confartigianato Il 15 aprile Sul tema Sinergie sostenibili In cui le imprese Che hanno avviato percorsi di sostenibilità Potranno incrociare i loro prodotti Servizi e conoscenze Creando una rete virtuosa Di rapporti commerciali e sociali L'associazione vuole Informare Aiutare i nostri imprenditori A comprendere quelle che sono Le tante opportunità Che la sostenibilità In questo momento offre In Italia si sta lavorando Tantissimo sul tema Della sostenibilità Anche nelle marche Dobbiamo lavorare Siamo un po' indietro Rispetto a questo tema E quindi abbiamo organizzato Questi incontri Per portare a conoscenza Della comunità Le best practice Che alcuni nostri imprenditori Hanno avviato Per far sì che ci sia Una sorta di contaminazione positiva E anche il nostro territorio Possa crescere Rispetto a questo tema E domenica 12 marzo Alle ore 18 Nella suggestiva cornice Della fabbrica urbana Fano Andrà in scena Il concerto Pane allo Zolfo Sentiamo di che cosa si tratta Si tratta di una Delle iniziative culturali Del parco dello Zolfo Di Marche e Romagna Che in questo caso Cerca di diffondere La grande storia Legata alle miniere di Zolfo Del nostro territorio In questo territorio Quella di Perticara Di Nuova Feltre Quella di Urbino E quella di Cabernardi Di Sassoferrato E in questo evento Che ha avuto Un primo evento Sperimentale A Cabernardi Noi uniamo La storia Dei sepolti vivi Ossia Il dramma Dei minatori Che vennero licenziati Negli anni 50 Prima della chiusura Della miniera Di Sassoferrato E questa storia È andata Ad ispirare Un disegnatore Luca Caimmi E un gruppo Di musicisti L'associazione Obelisco Nero Che creeranno Un'atmosfera unica E suggestiva Alla fabbrica urbana Di Fano Il 12 marzo Alle ore 18 Questa è un'iniziativa Molto importante Che ci riporta A quella Che è una storia Che è molto scomoda Che abbiamo voluto Dimenticare Grazie al parco Nazionale Dello Zolfo Di Marche Romagna Abbiamo la possibilità Di ospitare Qui a Fano Alla fabbrica urbana Il concerto disegnato Pane allo Zolfo È un'iniziativa bellissima Perché mentre la banda Degli Obelisco Nero Con musiche Scritte da loro Molto softe E ambientali Racconterà Dal punto di vista Appunto musicale La realtà Delle miniere Allo Zolfo Ci sarà Luca Caimmi Che disegnerà Dal vivo E ci farà rivivere Anche visivamente Quella Quella pagina Della nostra storia Molto triste Che dobbiamo ricordare È stata una conferenza stampa In cui Il direttore Del parco Ci ha Ricordato Quella che era Una storia Molto Molto importante Quindi Legata anche A delle sofferenze Legata a dei lavoratori Ed è la storia Di un territorio Quindi Assolutamente Vi invito a venire Ringraziamo la fabbrica urbana Perché Ci riesce A fornire Uno spazio Utile per la collettività In cui ospitare cose interessanti Nuove E preziose La giornata Internazionale Della donna Rappresenta Un'occasione Per esprimere Solidarietà Alle cittadine E ai cittadini Afgani E iraniani Lo afferma L'assessora Alle pari opportunità Sara Cucchiarini Che supporta L'iniziativa Lanciata da Anci In questo modo Si vuole condannare Le azioni violente Perpretrate Dai governi A scapito di manifestanti Che scendono In piazza Pacificamente In nome della democrazia E della libertà A testimonianza Della vicinanza Alle popolazioni Colpite Verrà Illuminato Di luce gialla L'arco d'augusto Inoltre È stata convocata La conferenza Delle donne Elette Si svolgerà Il 15 marzo Alle ore 18 Al pari centro Con consigliere Ed associazioni Per programmare Attività A sostegno Delle donne Iraniane E afghane E riparte Letteraria Il concorso Che coinvolge Centinaia di studenti Che dovranno Giudicare I romanzi In gara La novità Di quest'anno È il podcast Per iniziare A spiegarvi Un po' Di cosa Stiamo facendo A quello che Dicevamo Sono 122 romanzi Provenienti Da decine Di case editrici In gara La decima edizione Di letteraria Il premio Che gli studenti Delle scuole superiori Assegnano Due opere Di narrativa italiana E straniera In traduzione Dopo una lunga fase Di lettura Che si è aperta A metà febbraio E si concluderà Alla fine di settembre Il concorso Che coinvolge Alunni di Fano Pesaro Urbino E Senigaglia Oltre a quelli Dell'istituto Policomprensivo Di Brunico In Trentino Conferma Una crescita continua Con numeri lusinghieri Ha un valore Non solo culturale Ma anche civile E sociale Perché sono state Migliaia Le ragazze e ragazzi Coinvolti Nella promozione Della lettura In questi anni Non solo a Fano E migliaia Sono stati i libri Che hanno circuitato Nella nostra città E anche oltre i confini Perché letteraria Ha consentito La nostra città Di proiettarsi Tra le grandi manifestazioni Culturali Di questo paese Tutto grazie alla passione Ma anche alla professionalità Di decine di volontari E volontari Di ogni generazione Che passo dopo passo Hanno costruito Un grande evento Che è bene ricordarlo In questi anni Ha per l'appunto Coinvolto migliaia Di giovani E ha portato Anche un indotto Che a volte Non viene considerato Ma che è molto significativo Sono oltre 100.000 euro Di libri Che sono stati donati A questa città Alle scuole Al sistema bibliotecario Solo quest'anno Sono 1.100 I ragazzi Gli studenti coinvolti Per testi Che grazie Al coinvolgimento Delle case editrici Vedono 20.000 euro Di investimento Per la lettura In questa città Per la nostra comunità Veramente il caso di dire Grazie letteraria Parleremo di letteratura Da ogni dove In mezzo alla strada Scusa Al bar Un caffè macchiato Grazie Edizione 2023 Di letteraria È caratterizzata Da una bella novità Una bella novità Perché letteraria Sbarca su Spotify E YouTube Creeremo un podcast Che è un programma Radiofonico Sempre fruibile E dove Lasceremo ragazzi Discutere Di temi Riguardo la letteratura Usciranno dal 10 marzo E da lì in poi Ogni venerdì Sarà presente Un nuovo contenuto Sulle nostre pagine social E con le interviste Che cose riguarderanno? Le interviste Riguarderanno Prima un'intervista Ad Alessio Arena Che è questo Autore Traduttore Cantautore E tantissime cose Una grandissima personalità E poi Ci sarà una conversazione Con Agatha Christie Ed infine Una conversazione Tra ragazzi Distesi appunto Su questi letti In cui siamo adesso E dove Parleranno del libro Come oggetto Quindi Come utilizziamo un libro Presenti alla conferenza stampa Anche il sindaco di Fano Massimo Seri E l'assessore Cora Fattori Il comune di Fano Investe sulla cultura Nonostante le nostre Poche possibilità Ma abbiamo la fortuna Di avere un patrimonio Culturale Soprattutto umano Incredibile Letteraria lo dimostra Perché ha fatto In questi dieci anni Un lavoro incredibile Il bello è che ogni anno Si rinnova Si rinnova Dalle nuove collaborazioni Con altre scuole Di altre città Ma si rinnova Anche nella proposta Quest'idea del podcast È stupenda Un gruppo di ragazzi Che in veste Assolutamente volontaria Divertendosi nel leggere Si divertono a raccontare Come si legge E come leggono Quindi io lo trovo Favoloso È un grande E' un grande Arricchimento per la nostra città Avremo ospiti D'eccezione Autori Traduttori Cantautori Cantascrittori Autori 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 Autotrattori Pronti per essere Fatti a brani Su Spotify Youtube E tutti i canali social Di letteraria Dal 10 marzo E vi annuncio che lunedì sera a primo cittadino sarà ospite il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi Potrete intervenire in diretta Contattando il numero di telefono che vedete in questo cartello Oppure inviarci dei brevi messaggi di testo su WhatsApp E questa era la nostra ultima notizia L'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa Grazie per essere stati con noi e arrivederci Grazie a tutti